Francilia si comincia dai fatti e non c'è più tempo per le chiacchiere a quanto sembra. Ma noi l'abbiamo detto da subito, vogliamo subito iniziare a lavorare per furci. Il primo gesto che è stato fatto riguarda la pulizia di via Sant'Antonio, c'erano stati tanti appelli nel corso delle ultime settimane in particolare, c'erano mobili, suppelletti, rifiuti ingombranti, c'era di tutto. È il primo provvedimento che ho fatto stamattina, ma si deve continuare a fare lo stesso tipo di lavoro anche in altre zone del paese, però un appello lo voglio fare anche a tutti quanti i cittadini, non solo quelli di furci, perché mi risulta che siano molte purtroppo le persone che vengono anche da fuori a scaricare. Furci non è un luogo dove poter portare i propri rifiuti, noi vogliamo tutelarlo e per questo ci saranno dei controlli che saranno molto molto severi. Le persone che verranno individuate, che scaricheranno i propri rifiuti ingombranti sul territorio, lo dico molto chiaramente, in maniera brutale, la pagheranno cara. Quindi i controlli saranno continui, abbiamo anche delle persone che ho deciso subito da posizionare in alcune parti del paese, che sono materialmente nascoste in alcuni orari particolari per andare a verificare coloro che vanno a scaricare. E verranno presi appunto sul posto. Ho fatto anche una segnalazione, ho detto ai cittadini di segnalarci tutti coloro che commettono appunto un reato, perché si tratta proprio di un reato. Viene chiesto altresì di controllare, o meglio di organizzare meglio, in attesa che parta la differenziata, il servizio di raccolta dei rifiuti. In particolare la domenica sul lunedì c'è una montagna di rifiuti nei cassonetti della villa, sul lungomare e in questo caso bisognerebbe anche intervenire celermente. Non c'è dubbio, io comunque la prossima settimana mi incontrerò anche con la ditta che effettua questo tipo di servizio, abbiamo appuntamento nella prossima settimana e sicuramente i controlli saranno continui e poi si dovrà iniziare con la raccolta differenziata. Da quel momento in poi secondo me la situazione certamente cambierà. E bisogna accelerare anche per la differenziata. Per quanto concerne invece l'attività amministrativa, oggi sono state già conferite le deleghe, quindi la macchina amministrativa comincia a prendere forma. Sì, siamo partiti proprio in maniera spedita perché riteniamo che non si può perdere tempo, i cittadini vogliono delle risposte, noi ci sentiamo molto responsabilizzati dal fatto che ci hanno votato praticamente tantissime persone, c'è stato un risultato storico a Furci e quindi ci sentiamo ancora più responsabili rispetto alle aspettative dei cittadini. E quindi abbiamo nominato subito la Giunta con Daniela Mercurio, che oltre ad essere assessore è anche vice sindaco, Andrea Ferrara e Francesco Moschella. e siamo pronti a lavorare e a dare il nostro contributo per Furci, con tanto tanto impegno.